Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, alla microfono, Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara, Penne. Circa 3.000 metri cubi di rifiuti abbandonati in località Via Nuova di Avezzano adibita a discarica sono stati sequestrati dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato. I proprietari dell'area, tre fratelli di Avezzano, sono stati denunciati per smaltimento illecito. Nell'area venivano smaltiti residui di demolizioni di edifici e rifiuti indifferenziati. La Regione ha a disposizione 400.000 euro per l'emergenza neve. Concordiamo ed allineiamo però una procedura di reciproca responsabilità senza che questo rappresenti un cuscino di sicurezza per nessuno. Alla luce delle frequenti nevicate invernali diventa di prioritaria importanza la programmazione delle attività necessarie a garantire una buona fruibilità della rete stradale nell'ambito del territorio regionale. Lo ha detto il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. La Commissione Territorio del Consiglio regionale ha licenziato, cioè approvato, la proposta di legge per istituire il parco marino sulla costa frentana. Si tratta, ha detto il sottosegretario Mazzocca, di un ulteriore tassello a difesa di uno dei tratti di costa più suggestivi dell'intero Adriatico, ma anche di un altro possibile freno all'incombente petrolizzazione del nostro mare. Oggi la seconda commissione consigliare ha licenziato l'anonimità, detto ancora ieri Mazzocca, Forza Italia infatti non ha partecipato al voto, la proposta di legge per istituire il parco naturale regionale dei Trabocchi. Un confronto per avviare i temi più complessi legati al sistema teatrale abruzzese, in un'ottica di rilancio e sviluppo. Ampliare l'offerta artistica, puntando su qualità della produzione ed efficienza gestionale, è la via per risanare e rilanciare istituzioni culturali di vertice, come il teatro stabile abruzzese. Con questo spirito il presidente della giunta regionale d'Alfonso ha colto ieri in regione all'Aquila Natali Dompe, 28 anni, neopresidente del teatro stabile abruzzese, formulandole i migliori auguri di buon lavoro. Una scelta sofferta, ma che riconferma la sua volontà a portare avanti, con rispetto delle istituzioni, la propria candidatura a garante dei detenuti in Abruzzo. Durante il congresso dei radicali italiani, la segretaria Rita Bernardini ha comunicato la rinuncia a riproporsi nell'incarico di responsabilità nel partito, per incompatibilità con quello che potrebbe essere il suo nuovo ruolo. Attesa per i prossimi giorni la decisione del GUP, cioè del giudice unico per le indagini, di Pescara Gianluca Sarandrea sulla terza richiesta di archiviazione dell'inchiesta per la morte di Roberto Straccia, il ragazzo 24enne di Moresco, in provincia di Fermo, studente universitario di Pescara, scomparve dal capoluogo adriatico il 14 dicembre 2011. Il corpo fu poi trovato sul litorale di Bari il 7 gennaio 2012. Oggi, ieri, scusate, il GUP ha respinto l'eccezione di incompatibilità presentata dal legale della famiglia, che si è opposta all'archiviazione. Per 23 settimane, due ore a settimana, ragazzi dai 5 ai 13 anni a San Buceto potranno giocare a rugby gratuitamente. Rugby San Buceto 2008, infatti, ha aderito al progetto CONI Ragazzi, nato dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, CONI, cioè Comitato Olimpico Nazionale, e con il patrocinio delle Comune di San Giovanni Teatino. Il programma è diversificato per fasce d'età, attività motoria di base dai 5 agli 8 anni, attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva dai 9 ai 13. Sarà Ebron d'Aristotile il direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione della Regione Abruzzo, il Presidente della Giunta regionale d'Alfonso, d'intesa con l'assessore alla Sanità Silvio Paolucci, competente in materia anche di bilancio, ha proposto l'Aristotile dopo un attento esame dei curricula. 5 le domande pervenute nei termini a seguito di avviso di selezione ed evidenza pubblica. Alla base del provvedimento, il possesso delle capacità professionali necessarie a svolgere l'incarico di direttore. Si terrà oggi pomeriggio alle 17.30 l'incontro convocato dall'amministrazione comunale di Pescara fra le delegazioni di esercenti e residenti di Via Cesare Battisti. L'obiettivo dell'incontro è quello di dare stabilità allo sviluppo e alla qualità della vita nel quartiere, spiega l'assessore al commercio Giacomo Cuzzi. L'incontro arriva dopo una serie di interventi che l'amministrazione ha voluto coraggiosamente introdurre, dice ancora Cuzzi, secondo cui la nascita del comitato fra operatori è stata fortemente caldeggiata dall'amministrazione. Oggi è mercoledì 4 novembre, la Chiesa celebra la memoria di San Carlo Borromeo Vescovo. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon nomastico a tutti gli ascoltatori che portano questo nome. Siamo al meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature da 14 a 18 gradi sulla costa e da 13 a 17 gradi nelle zone interne, venti deboli. Il mare è previsto poco mosso. Questa era l'ultima notizia del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia, la parte tecnica, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti.